Sono 25 nuovi dipendenti dell'ufficio del processo della Corte d'Appello, un contratto a tempo determinato di due anni e sette mesi, assunti con i fondi del PNRR. Saranno di supporto ai giudici nelle attività pratiche, tecniche e informatiche. Sono stati messi in servizio dalla Presidente della Corte d'Appello, Maria Grazia Vagliasini, nell'aula magna di Palazzo di Giustizia. Prima di iniziare a lavorare i neoassunti seguiranno due settimane di formazione. Saranno soprattutto di supporto ai giudici del rito civile per snellire la mole di lavoro del Tribunale.